Inizia così la nostra chiacchierata e io direi di dare subito la parola a chi l'amianto l'ha conosciuto, a chi c'è vissuto, c'è cresciuto 25-30 anni a lavorare con l'amianto. E oggi, oggi come sta chi ha lavorato l'amianto? Ne parliamo direttamente con Franco Tramarin e Nico Biasotto. Ben arrivati, grazie per essere qui con noi, due operai. Benvenuto Franco, grazie per essere qui con noi. Benvenuto a Nico Biasotto che è il coordinatore della Regione Veneto ONA Ollus, l'associazione con il più alto numero di iscritti, di vittime dell'amianto iscritte. Allora, intanto 25 anni per quanto riguarda Nico Biasotto e Franco Tramarin, 30 anni della propria vita a lavorare l'amianto, con l'amianto. Diciamo a contatto con l'amianto perché io ho fatto 15 anni di lavorazione in fonderia e perciò l'amianto era il nostro pane quotidiano perché là si faceva tutto con l'amianto, dalle canale, alle protezioni, era tutto amianto. Insomma, ce n'era tantissimo senza nessuna protezione, mascherine, noi lavoravamo e non sapevamo neanche i danni che faceva questo amianto. Quindi stiamo rendendo, manca che passano gli anni che purtroppo... Intanto dove siamo? In quale regione d'Italia, in quale zona? Veneto, Porto Marghera. Siamo a Porto Marghera, la produzione di amianto fino a un certo punto è legale e poi diventa non più legale, non si può più produrre. Che cosa è cambiato dopo? È cambiato che l'equibilizzazione dei forni in impianti vecchi dove c'era l'amianto ancora era stato là, non si è più adoperato l'amianto nel senso pratico come guarnizioni, come hanno smaltito quello che avevano in giacenza. Però dove ci sono i forni, le coperture non sono state smaltite e comunque l'amianto era ancora persistente. Perché se noi prendiamo le coibitazioni dei forni di tante altre cose che sono là, che erano state fatte nel passato, negli anni 60-70, queste fabbriche erano venute al mondo col boom industriale e l'isolamento era tutto da amianto. Perciò non è stato bonificato e col tempo questi si sbriciolano e rilasciano le polveri nell'aria e purtroppo noi siamo là che continuamente si respira. Ci sono però delle protezioni che immagino voi adoperiate, cioè penso a mascherine, guanti, tute, la prima cosa che viene in mente è una ignorante, però dice se devo proteggermi da una cosa che definiamo killer mi proteggerò appunto, la mia azienda mi costringerà, mi darà gli strumenti per proteggermi. Fate no con la testa tutte e due. Ma hai avuto una mascherina per proteggermi dall'amianto? Io dico la verità. E questo succede prima e succede dopo il 92? No, anche dopo il 92 non ho mai avuto protezioni specifiche per l'amianto. Le mascherine non ce le hanno mai fornite per l'amianto, mascherine che per di più ci vogliono anche delle mascheri, poi ci siamo informati, delle maschere speciali per l'amianto, più fine di un cappello, sono molto sottile, subdole, che entrano nell'interstizio e vanno a depositarsi nella parte più estrema dei polmoni. Ma ci vorrebbero anche oggi queste mascherine così complesse? Lo chiedo a Nico Biasotto, cioè anche oggi che non si produce più l'amianto, che sono passati anni e anni, decenni, ci vorrebbero ancora queste protezioni? Sì, sì, io glielo posso confermare, perché nelle nostre industrie, nelle nostre fabbriche, per esempio, sono state fatte molte, diciamo, sono state levate via diversi tonnellate di amianto, sono state levate via la maggior parte fra il 2003 e il 2007, però le posso confermare che ancora adesso amianto ce n'è, noi stiamo lavorando ancora in una situazione dove c'è amianto e noi non usiamo assolutamente mascherine, mascherine non ce ne sono e i lavoratori ormai l'hanno scoperto, ma l'hanno scoperto da pochi anni, questo è il discorso, perché qualcuno ci diceva che non c'è nessun problema, potete lavorare pure tranquillamente, che le macchine sono coimentate, non ci sono uscite, eccetera, invece non è così. Non c'è nessun problema, le faccio una domanda brutale, a quanti funerali avete partecipato? Allora, 20 nostri colleghi sono morti di mesotelioma pleurico e sono dati ufficiali, perché noi non è che possiamo inventarci queste cose, ci sono dei dati ufficiali dell'ASL, 12 di Venezia, un altro, l'ultimo, poverino, un nostro carissimo amico, 25 giorni fa siamo andati ad accompagnarlo per l'ultimo viaggio e altri due nostri colleghi, proprio uno purtroppo ha tre mesi di vita e un altro è messo molto male, quindi la situazione è catastrofica. Mesotelioma pleurico significa tumore? Mesotelioma pleurico è il classico tumore derivato assolutamente dall'amianto, solo assolutamente dall'amianto, quindi... Esagero se dico che il 75%, quasi l'80% delle persone che l'hanno lavorato, l'hanno respirato, si è ammalata adesso? Allora, anche questa è una cosa da raccontare perché probabilmente se noi lo diciamo a qualcuno non ci credono, cioè le dico la verità, noi non sapevamo dell'importanza delle protezioni di questo, cioè dovevamo probabilmente essere informati di queste cose, essere a conoscenza di queste cose, noi non lo sapevamo assolutamente. Per fortuna abbiamo conosciuto un avvocato, un avvocato qui da Roma, che ha detto guardate che per mia esperienza, perché ho molta esperienza ormai in questo campo, ha detto se molte persone sono state assunte all'amianto, io ho visto che facendosi dei controlli, dei controlli, l'amianto ce l'avete nei polmoni. Noi di primo acchito abbiamo detto questo sta dicendo una cosa che è una cosa che terrorizza, ma poi alla fine non può avere... Esatto, ma poi cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo detto ma perché non ascoltarlo? Non penso che sia una persona... L'abbiamo ascoltato. Di tasca nostra siamo andati dai nostri medici che per fortuna abbiamo dei medici consenzienti e molto intelligenti, anche hanno capito la cosa, ci hanno fatto fare queste... Diciamo siamo andati all'ASA, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, le TAC, le risonanze magnetiche, quello che dovevamo fare... Scusi, questo significa che l'azienda non prevedeva questo tipo di controllo su di voi? Ma assolutamente, assolutamente... Cioè mai nessuna visita? L'ultimo controllo che abbiamo fatto nella nostra azienda, una semplice radiografia, è stata fatta nel 2005 addirittura, ma una radiografia che con la radiografia non si vede assolutamente nulla, perché io ho parlato con dei pneumologi, hanno detto la radiografia non serve a nulla. E quindi l'esame è un altro, voi l'avete fatto? L'abbiamo fatto. Quali sono stati i risultati? Allora, io le dico, i primi risultati che mi arrivavano non ci credevo, mi dicevano guarda, di 5 che sono andati a fare l'esame, 4 avevano placche pleuriche, noduli, i spessimenti pleurici, ho detto no, non è possibile, sarà un caso. Arrivano altri 5-10 persone, la stessa cosa. Cioè, io le dico la verità... Ma lei stesso? Anch'io, purtroppo, purtroppo, a parte gli spessimenti pleurici, ho poi strie nei polmoni, che sono delle cicatrici appunto causate dall'amianto, che poi possono degenerare, è una cosa veramente catastrofica. Anche Franco, i risultati delle sue analisi dicono... Sì, 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 io addirittura sono messo un po' peggio perché ho l'asbestosi. L'asbestosi pleurica? Sì, sì. Che sarebbe un'infiammazione? È la classica asbestosi pleurica che se non tenuta bene in considerazione controllata, curata, monitorata, eccetera, eccetera, che prevede che non bisogna più stare nei posti dove comunque, anche se non c'è ammianto, che c'è polvere, fumo, oli emulsionati, agenti che possono comunque portare alla fibrosi del polmone e in pochi anni si va a respirare con la bombola d'ossigeno, poi fino naturalmente alla morte, insomma. E per di più, gli ammalati di asbestosi sono quelli principalmente esposti al famoso tumore del metoterioma pleurico, che oggi come oggi, a parte qualche cura che c'è qua e là, all'istituto Regina Elena di Napoli, un po' così, diciamo, che stanno promettendo qualcosa, ma non c'è cura, ecco, l'unica cura è la prevenzione, essere prevenuti, essere sempre monitorati continuamente e sperare che la malattia non cammini perché è una malattia comunque degenerativa, non si può fermare, questa non è una malattia che dici prendi una pastiglia e domani stai bene, no, fai un'operazione, no, questa è una malattia che cammina sempre, è progressiva, c'è modo e modo di progressare, il modo è, stando fuori dove ci sono gli ambienti inquinati, all'aria sana è pura, allora la malattia è nel posto di come uno cammina a 10 km all'ora, invece c'è chi cammina a 2 km all'ora, noi dobbiamo trovare il modo che questa malattia, che comunque cammina, ti farla camminare non più a 5 km all'ora, adesso che sono ancora dentro, sono impianti, io non so se ci sia ancora amianto o non ce ne sia, non posso decidere, non faccio i controlli, però c'è fumo, polvere che tutti i medici mi dicono che là non si può più stare, bisogna uscire all'aria aperta per far camminare questa malattia, non a 10 km all'ora, a 2 km all'ora. Mi avrei chiesto come si va a lavorare con tutto questo carico, però credo che questa sia già la risposta per il momento, grazie intanto. Grazie, andiamo avanti nel nostro dibattito sull'amianto, come l'abbiamo detto, l'amianto killer, che lo ripetiamo, le vittime, le statistiche sono insomma sulle 3 mila l'anno, ma sono numeri in crescita, purtroppo in crescita. E accogliamo un altro ospite che è l'avvocato, che non abbiamo detto il nome, però è stato citato dai nostri primi ospiti, ed è appunto l'avvocato Ezio Bonanni. Benvenuto, benvenuto avvocato. Allora, avvocato, lei insomma segue da alcuni anni, no, le vicende legate all'amianto? Sì, da circa 11 anni. Da 11 anni. Intanto le chiederei un commento, perché la vedevo, insomma, partecipava molto, no, con le sue espressioni del viso al racconto dei nostri primi due ospiti. Sì, sono stato chiamato a Venezia da questi lavoratori, circa un centinaio, 120, più che altro per risolvere il loro problema legato al mancato riconoscimento dei benefici contributivi che avrebbero portato a un prepensionamento e quindi a toglierli dall'ambiente contaminato. Questo è importante perché, per esempio, l'asbestose è legata alla dose e al periodo di esposizione. Quando abbiamo fatto una prima assemblea, anzi, con tutta anche l'associazione, e loro pensavano di essere tutti in buona salute. Allora io ho consigliato prima di tutto di fare dei controlli. Di fare degli esami, come hanno detto. Esattamente. A questo, diciamo, questo consiglio che io ho dato è legato alla mia particolare esperienza. Nel frattempo arrivano messaggi dalle persone che sono a casa, per cui... Nel senso che, visto che anche quelli che erano andati in pensione con i benefici contributivi del comma 8, che è quello per i quali è necessaria solo l'esposizione, a distanza di 4-5 anni avevano contratto tumori polmonari, mesotelioma ed altro. E allora, anche se questi lavoratori hanno in pensione, ho consigliato loro di fare dei controlli. E una media di circa 10 su 100, quindi diciamo una media abbastanza alta, aveva dei tumori all'inizio, quindi al primo stadio. Non fa sostanze... E ringraziando Dio, diciamo che operati immediatamente sono ancora tutti in vita e sono già passati 3-4 anni. Perché se è vero che il mesotelioma non può essere aggredito efficacemente, è altrettanto vero però che tutta un'altra serie di patologie, come i carcinomi al polmone, alle corde vocali e quanto altro, se tempestivamente diagnosticati, possono essere curati e guariti o quantomeno possono essere notevolmente prolungati i tempi di vita e la qualità dell'esistenza di questi pazienti purtroppo nel momento poi progressivo che li porterà alla morte. Che ci hanno detto che è un'alattia inarrestabile. Esattamente, per l'asbestosi legata alla dose più uno rimane esposto e più aumenta. Più si aggrava.